Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni, originaria di Andrea da tempo, residente a Taranto, rimasta gravemente ustionata nell'incendio che martedì pomeriggio è divampato nella marina di Pulsano in zona fatta a Morgana Lido Silvana. L'anziana, che aveva riportato ustioni severe sull'80% del corpo, era stata soccorsa da due vigili del fuoco che l'avevano trovata accasciata nel giardino della sua villetta. Subito dopo era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata e ricoverata nel reparto di rianimazione, dove è deceduta questa mattina. I medici avevano cercato in vano di stabilizzarla per portarla al centro grandi ustionati di Brindisi. Il ruoco ha devastato la vegetazione seriamente, danneggiato abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali. Un uomo di 67 anni ieri è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato l'incendio. Si sono registrate scene di panico anche tra i bagnanti che hanno cercato riparo in mare o sugli scogli perché le fiamme hanno minacciato gli stabilimenti balneari. Il comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello Sport per la sistemazione provvisoria di quanti erano stati costretti a lasciare le proprie ville a scopo precauzionale e fornito vivere acqua. Nella stessa zona, 23 anni fa, si verificò un altro incendio che devastò la pineta di Lido Silvana.